Le rassicurazioni su una presunta stabilità dell'edificio non bastano alle decine di genitori di studenti della scuola Olivieri che questa mattina alla prima campanella delle otto si sono radunate sotto la pioggia all'ingresso dell'istituto. Non lo hanno fatto però accompagnando i figli a scuola, piuttosto 20-30 alunni sono rimasti a casa con i genitori che li hanno esentati dai banchi. Genitori fortemente preoccupati dalla tenuta di un edificio già malorato prima del terremoto e che dopo il sisma non vogliono più aspettare perizie tecniche sull'edificio finora rimandate. C'è chi non manda i figli a scuola, c'è chi pensa a soluzioni alternative all'Olivieri. Ovviamente il terremoto che c'è stato ci ha dato un bello scossone ma già da prima queste criticità, questo problema c'era, tant'è che è più di un anno che andiamo avanti con questo discorso. Io personalmente sono molto molto preoccupata di mandare mia figlia qua tant'è che stamattina ancora a casa e sto valutando anche un'altra struttura, un'altra scuola. Adesso non mi sono ancora mossa, lo farò non so se in giornata o domani però sto valutando perché siamo preoccupati. Io non sono tranquilla e anche altre strutture comunque la mano sul fuoco non è che la posso mettere. Tutti gli edifici hanno criticità e hanno... però questa è una scuola veramente vecchia, anni 50, era una vetreria, è stato fatto un ampliamento, sono quattro piani. Sinceramente abbiamo una relazione in mano che ci dice le criticità, abbiamo consultato dei tecnici, io sono un geometra però adesso non sono un ingegnere, però insomma ci siamo consultati e le preoccupazioni ci sono. Io venerdì e sabato non l'ho mandata a scuola, oggi con tanto timore, tanta preoccupazione ho deciso di farla rientrare, ma la mia ira è funesta comunque perché devono trovarci assolutamente una soluzione, non è possibile continuare a rimanere in uno stabile del quale non ci danno la sicurezza. Devono darci delle risposte, assicurarci che la scuola si assicura e allora noi a quel punto ci tranquillizziamo ma con una documentazione, altrimenti devono trovarci un'altra soluzione. Fra i genitori anche l'avvocato Ada Vita che si interfaccia con istituto e istituzioni sulla staticità dell'edificio da oltre un anno. Quando nel novembre 2021 una parte dei genitori della scuola Manzi, che attualmente appunto è ospitata nell'istituto di Via Confalonieri, è stata trasferita in quest'immobile e da lì abbiamo appreso che sostanzialmente già il preside Bosio aveva scritto al comune per chiedere lumi in merito allo stato di sicurezza di quest'immobile e riferendoci che non aveva mai ricevuto riscontro scritto dall'amministrazione comunale. Dopodiché appunto nel novembre 2021 scriviamo noi genitori chiedendo informazioni in merito alla sicurezza dell'immobile e perché abbiamo rinvenuto anche dei documenti, cito, di libere di giunta comunale del 2018, dai quali emergevano delle forti criticità in merito a questo immobile e dove si sosteneva che necessitava di interventi radicali e che quindi una sua ristrutturazione sarebbe stata antieconomica e bensì sarebbe stata necessaria una sua ricostruzione a nuovo. Nel luglio 2022 di quest'anno appunto abbiamo un incontro con l'assessore Pozzi e i tecnici comunali i quali ci rassicurano riferendoci che avevano disposto una valutazione preliminare sullo stato di sicurezza di quest'immobile sicché sottoponiamo questa valutazione preliminare a dei tecnici di nostra ovviamente alcuni sono genitori che hanno i bimbi ovviamente anche in questa scuola come anche ad un professionista di Milano i quali in realtà ci danno un quadro della situazione purtroppo molto più critico ed allarmante. Lo stesso Avvocato Vita ha letto ai partecipanti al sit-in alcuni dei passaggi più delicati della valutazione preliminare sull'edificio. Questo immobile ha una capacità di spostamento estremamente esigua e l'indice di sicurezza allo stato attuale di circa il 16% dell'adeguamento e cito altre tre righe, assolutamente necessario prevedere comunque il rinforzo di tutti i pilastri, rinforzare le travie maggiormente caricate, aumentare la capacità dei nodi in calcestruzzo esterni, ridurre l'eccessiva deformabilità globale che comporta una sovrabbondante attitudine alla deformazione e proteggere con sistemi anti-espulsione i divisori e le tamponature. Tra l'altro in questa relazione vengono segnalate anche ammaloramenti del calcestruzzo, infiltrazioni dal tetto e insomma altre situazioni critiche. Ironia della sorte, proprio il giorno prima del terremoto ci fu un consiglio di istituto sul tema alla presenza dell'assessore Pozzi e dei tecnici comunali. Contro ci hanno riferito che avrebbero già disposto una perizia commissionata ad uno studio tecnico esterno al comune e che questa perizia, gli esiti di questa perizia li avremmo ricevuti a dicembre, massimo gennaio, metà gennaio 2022. Va da sé che un tempo ragionevole d'attesa per dicembre-gennaio è stato rimesso in discussione dai postumi del terremoto. Ora i genitori chiedono di avere risposte celeri sui contenuti e gli esiti della perizia sull'edificio.